Nel sacchetto del fast food i poliziotti hanno trovato tra residui di cibo e cartacce, monili e denaro. Per questo due ventenni sono stati denunciati dalla stradale per il reato di ricettazione. I giovani sono stati fermati lungo la 1, alla vista degli agenti però hanno subito perso la calma non riuscendo a fornire motivazioni credibili sulle ragioni del loro viaggio. Così i poliziotti hanno deciso di perquisire l'auto, la sorpresa quando hanno afferrato il sacchetto. Dentro la refurtiva di una truffa ai danni di un'anziana di 91 anni avvenuta a Pietrasanta nel Lucchese, monili d'oro, orologi preziosi e oltre 1000 euro in contanti. Attraverso le indagini e la tempestiva denuncia della vittima è venuto fuori che la donna era stata adescata con la classica telefonata nella quale si chiedeva denaro per salvare il figlio dal carcere. Contanti preziosi sono stati restituiti all'anziana vittima mentre è stata sequestrata all'auto sulla quale viaggiavano i due truffatori.